L'applauso per il pubblico presente, sempre numerosissimo, soprattutto la corsa per il popolo del F1. Eccoli qua, chi si sente poco la attra100 perchè la z è uguale.... Ecco qua, tre graffi che ci sono passati, i borgo e i borgo negli anni davanti, ecco qua Coya, dopo c'è Colle Rumi, facciamo un applauso, dopo Coya, presentori 2014, Coya. Sempre numerosi, Coya, sempre molto preparati, soprattutto per quanto riguarda la corsa, perché sì, è una cosa, una corsa simpatica, ma che sempre è questo. A tutti piace di Coya, Colle Rumi, l'applauso a Colle Rumi, ecco qua. Anche loro, sempre in tanti, Colle Rumi. Colle Rumi. Colle Rumi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.